Buongiorno ragazze, come state? Io sono fuori, sono le due e mezza e sto per andare dalla parrucchiera, oggi rifaccio il colore. Oggi è venerdì 12 maggio, siamo in fase di preparazione, stiamo preparando le valigie e le ultime cose perché domani si parte, andiamo giù in Calabria, stiamo un po' sistemando le ultime cose, ecco. Ho deciso di iniziare a vloggare, anche perché poi giù magari non so quanto riusciremo a stare insieme, non so quanti video riuscirò a realizzare qualcosina, mi sono portata avanti, ho già due video pronti per voi, li devo soltanto editare, però ecco non so quanto riuscirò, quanti contenuti riuscirò ad elaborare giù perché chiaramente giù mi viene un attimino più difficile, ecco. Però sicuramente un video a settimana riuscirò a mantenerlo perché appunto ci tengo. Volevo ringraziarvi, anzi ne approfitto per farlo perché abbiamo superato i 500 iscritti, è per me un super traguardo e sono veramente contenta di farvi compagnia, contenta che i video vi piacciano, vi tengano compagnia, ho gli occhiali anche storti, perfetto. E quindi vi ringrazio dal profondo del cuore, stiamo iniziando anche ad interagire di più. Allora io entro dal parrucchiare, anche se oggi il tempo guardate, non è dei migliori, sicuramente sarà a diluviare e io non ho portato neanche l'ombrello, me ne sono completamente scordata ed è un problema anche perché sono senza auto, mi ha lasciato mio marito dal parrucchiere e devo fare un giro tra OVS e altri negozietti qui in zona, quindi senza ombrello sicuramente non so, sinceramente non so come fare. Comunque adesso vi lascio, corro dal parrucchiere, noi ci vediamo dopo, un bacio, ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.